Il campo dopo la vittoria nel derby contro Treviso in conferenza stampa hai parlato di divieto di pensare alla gara di andata e di necessità piuttosto di guardare le ultime dieci partite di Cagliari. Non è un'opinione ma è un'imposizione che Cagliari ci offre, un quasi totale girone di andata in difficoltà, un paio di situazioni a cambiare che hanno creato sicuramente una spinta emotiva, risultati positivi compreso, che hanno dato più estensione nel roster e tranquillità alla guida. Il fatto è che oggi, nelle ultime dieci Cagliari nella 26, che propone una palacanestro molto chiara con una distribuzione di responsabilità e di ruoli altrettanto chiara, quindi che rasenta l'efficacia, i risultati alla mano ed è necessario quindi che si dimentichi assolutamente non solo della prega dell'andata ma anche della buona parte del giorno di andata e si concentra invece nel valutare Cagliari per le ultime dieci partite giocate. Scendendo più nell'aspetto tecnico, Cagliari che tipo di squadra è a livello offensivo e cosa deve fare la Tezennis per arginare gli attacchi di Miles, Rullo, Johnson, eccetera? Innanzitutto dobbiamo negare loro i primi sei secondi perché è una squadra che vuole veramente tirare cercando soluzioni nei primissimi secondi perché ha un giocatore come Miles che può veramente correre il campo, un giocatore come Rullo che può correre e tirare nei primissimi secondi, ha questo tipo di attitudine anche perché i lunghi sono lunghi rapidi, veloci, con doppia dimensione, quindi negare questo aspetto diventa il passaggio numero uno. Il punto numero due è sicuramente avere un controllo sia individuale sia di squadra delle licenze che sia Miles per attaccare, sia Rullo per tirare detengono. Il terzo punto è quello di controllare la doppia dimensione dei lunghi, quindi è necessario veramente avere una grande presenza dentro con tantissima concentrazione perché è necessario questo tipo di elementi perché la squadra, la nostra intendo, non si faccia sfuggire di mano quello che è il punto partita.